Occhi della tigra, ragazzi. La mia bababalela è tutta festa, l'estate arriva dalla finestra. Una cosa c'è di buona nel tuo gruppo, Luana. Si può sapere dove è finita? Io non è che non dovrei pagarti stasera, dovrei chiederti danni. Tu sei come una farfalla. Non penso che sia giusto avere una relazione con una che fa parte del gruppo. Con l'Anna però ci hai fatto una figlia. Eh, con l'Anna era diverso. Oh, a cosa pensi? Perché ti preoccupi di Giulia adesso? Sono tre mesi che non passi niente a tua figlia. Gli ha bisogno di un padre? Sono le tre. E adesso fai tardi anche durante la settimana. Babbo, cosa si fa qui? Respiro l'aria nel mare. Siamo solo all'inizio stagione ma le sirene ci sono già, eh? Tutto quello che succede, succede per un motivo. Comunque, io nella mia vita ho fatto anche l'operaio. L'hai fatto per tre giorni e poi ancora abiti da tua madre. Il liso non partirà mai di moda. Credo di aver avuto una bella idea. Ho inserito tra i componenti dell'orchestra la mamma come cantante. Ma lei lo sa? Stai scherzando? Sto proprio il conto. E sai che cosa ho fatto oggi? Ho venduto la moto. Io voglio che papà torni ad essere felice. E se ci riesce anche l'amore... Ho messo dentro tutto quello che ti può servire. Come se non fosse niente. Sono molto fiera di te. Possiamo dire che siete la band outsider di questo concorso? Come vi sentite?